Il sindaco Bruno In casa centrodestra, primi incontri di coalizione Una 39enne iraniana fermata in aeroporto dalla Polaria perché trovata in possesso di documenti falsi è stata denunciata per ricettazione di documenti di identità e sostituzione di persona Per la prossima Pasquetta ad Alghero ci saranno Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana questa mattina a conferenza stampa al Qualte Un saluto a tutti voi, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale La politica locale in primo piano perché tra poco più di due mesi Alghero torna al voto Nel centrosinistra pesa l'incognita Bruno Nel centrodestra invece i primi incontri di coalizione La ricandidatura sindaco ma non a tutti i costi Se serve, certo, continuiamo a incontrare i cittadini Così il sindaco Mario Bruno qualche giorno fa sul proprio profilo Facebook Da una parte ha elencato gli ultimi atti e protetti da portare in aula e dall'altra ha messo pressione la propria parte politica Rimandare ancora di settimana in settimana l'incontro tra forze politiche di centrosinistra Di centro e di sinistra che devono presentarsi insieme alle elezioni non serve O meglio serve solo alle forze politiche di centrodestra e 5 Stelle che nel frattempo si organizzano Sottolineato Bruno Io ci sono ma non a tutti i costi Ha poi aggiunto Solo se serve se non viene fuori un candidato migliore Magari capaci di aggregare più di me E di vincere le elezioni Ci sono ma le forze politiche diano segnale Di volersi incontrare e decidere coi metodi Che vorranno senza perdere l'ulteriore tempo Alcune forze politiche di centrosinistra In realtà ci sarebbero già incontrate Partito Democratico, Campo Progressista, EUPC Ma anche il Partito dei Sardi Questi ultimi vorrebbero Ma anche gli stessi dem come noto Evitare un Bruno Bis Ma le possibilità che anche in questa occasione Il centrosinistra si presenti spaccato Sono concrete Di certo in caso di ricandidatura Bruno non potrà contare sull'Udc Forza politica determinante per la vittoria nel 2014 Tornata ora nel centrodestra Proprio questa settimana c'è stata la prima riunione di coalizione Si ripartirà dalle liste che le regionali hanno raccolto insieme Oltre il 50% Questo il senso della nota inviata ieri da Forza Italia Udc, Pisdaz Riformatori Fratelli d'Italia Sardegna 2020 Forza Paris Energia per l'Italia e Sardegna Civica In attesa del contributo di tutti i partiti Alcuni dei quali assenti perché impegnati in incontri interni Per definire le strategie complessive su tutti i comuni sardi chiamati al voto Le forze politiche del centrodestra, sardista, autonomista e civico hanno avuto un primo incontro nel quale si è condivisa la necessità della massima unità di tutte le forze che si oppongono all'amministrazione Bruno per vincere le elezioni e dare ad Alghero un'amministrazione che dia risposte concrete ai problemi accumulati in questi cinque anni di sterile propaganda, si legge. E' stata condivisa la necessità di creare un fortissimo collegamento con la nuova amministrazione regionale che si sta per insediare ponendo al centro il rilancio di Alghero di tutto il territorio del nord ovest della Sardegna abbandonato dalle amministrazioni di sinistra. Nei prossimi giorni, fanno sapere le forze politiche, nella nota si completerà lo schieramento che ha vinto le regionali, anche con l'apertura e l'inclusione di ulteriori soggetti politici che vorranno contribuire alla rinascita della nostra città. Una coalizione largamente rappresentativa, concludono, capace, fino alla sua genesi, di porre basi concrete all'attività programmatica e a quella squisitamente politica che culminerà nella proposta alla città di una figura capace di fare sintesi e rendersi interprete delle istanze di coalizione. Atto di arroganza senza eguali, così consigliere regionale uscente Marco Tede definisce la deliberazione con la quale nei giorni scorsi il direttore generale di ATS Moirano ha sciolto gli otto dipartimenti salute mentale e dipendenze e ne ha istituiti altri tre, di cui uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud Sardegna. Tre nuovi dipartimenti che dovrebbero essere dotati di 19 strutture complesse e quattro semplici, con altrettanti primari in relazione ai quali ha fatto la selezione e individuato gli idonei. È evidente che siamo in presenza di un vero e proprio atto di belligeranza contro il presidente Solinas e la maggioranza di centrodestra, sardista e civica, che ha vinto le elezioni ponendo al centro dei suoi programmi la riforma della sanità sarda e la cancellazione dell'ATS, denuncia all'esponente forzista. Secondo l'ex sindaco Moirano dovrebbe immediatamente revocare la delibera e interloquire con Solinas al fine di ricevere indicazioni e direttive che li facciano intravedere il nuovo corso nel governo della sanità sarda. Non è accettabile che un funzionario pubblico prenda letteralmente a calcioni i progetti politici di una coalizione che ha ottenuto da parte dei Sardi l'investitura per governare la Sardegna e riformare la sanità chiudetedde. Una 39enne iraniana è stata denunciata alla procura di Sassari per ricettazione di documenti di identità e sostituzione di persona. Qualche giorno fa ha cercato di imbarcarsi sull'aereo per Londra con un passaporto falso, ma è stata fermata dalla Polari, la polizia di frontiera aerea di Alghero. Partita da Istanbul nei giorni scorsi era intenzionata a raggiungere il figlio a Londra. Al check-in dell'aeroporto di Alghero ha mostrato agli agenti un documento rilasciato in Spagna e intestato un'altra persona. La donna aveva con sé anche una carta di identità rilasciata dallo stato della Georgia che riportava la fotografia di una persona che, seppure somigliante, non corrispondeva a lei. Al termine dell'attività d'indagine la donna è stata segnalata all'autorità giudiziaria competente i documenti in suo possesso sottoposti a sequestro. Inoltre è stata invitata a presentarsi in questura a Sassari per i provvedimenti amministrativi a suo carico. Ci fermiamo adesso per una prima pausa. Renzo Arbore e l'orchestra italiana saranno i protagonisti del concerto di Pasquetta. L'annuncio è stato dato questa mattina in una conferenza stampa della sala conferenze del Qualteo. Oltre al sindaco Mario Bruna, l'assessore alla cultura e turismo del comune Gabriele Sposito, ha partecipato il presidente della Fondazione Alghero Massimo Creddu con il direttore consiglieri di amministrazione. Intervento telefonico tra l'altro dello stesso Arbore. Ora sentiamo però le interviste che abbiamo raccolto in occasione dell'incontro con la stampa. Renzo Arbore e l'Alghero, il concerto di Pasquetta. Abbiamo presentato questa mattina un grande nome della cultura, della musica italiana e non solo. Con grande orgoglio, il 22 aprile, dalle 18 in poi, un concerto straordinario con l'orchestra italiana. Un nome importante che aprirà ufficialmente la stagione culturale, musicale e concertistica di Alghero. Oggi abbiamo presentato il concerto di Pasquetta, Renzo Arbore e l'orchestra italiana. È un prodotto musicale e culturale molto importante. Quindi Alghero, dopo il Capodanno, ha doppia data. Dopo un mese che è un mese, continua con eventi di grande qualità. Lo presentiamo oggi, un mese in anticipo, quindi per tempo. In modo tale che ci possa consentire un simile prodotto anche agli operatori d'indici anturistici del territorio di poter vendere la città. E soprattutto quel periodo, quindi, col concerto di Pasquetta, si apre tutta una serie di eventi che continueranno, con il Barna San, con Mariapoli, che sono due eventi musicali etnici, dici internazionali, per poi continuare l'Out Event, che è un evento molto importante che si svolgerà qua in città sulla nautica. Ed è un evento di carattura internazionale. Detto questo, siamo soddisfatti, sono orgogliosi, perché Renzo Arbore apre la sua stagione concertistica in Italia ad Alghero. Lo dice, lo ha detto molto chiaramente, è soddisfatto e orgoglioso e riconosce che Alghero ha un suo fascino, un suo appeal ed è ritornata ad essere quella città di richiamo nazionale e internazionale. Domos in prima linea sul fronte della formazione e dell'aggiornamento degli operatori del comparto ex dalberghiero, con l'organizzazione di due Open Afternoon. Sentiamo di cosa si tratta. Organizzatore degli Open Afternoon, pomeriggi dedicati alla formazione all'approfondimento di alcuni, tra i temi di maggiore interesse, particolarmente apprezzati dai partecipanti, l'associazione Domos, un utrito programma che ha spaziato dagli adempimenti amministrativi a quelli fiscali, dall'home staging al web marketing, che ha visto una platea di partecipanti particolarmente attenta. In due occasioni distinte, la prima nella sala del polisoccorso, la seconda ospite della fondazione Alghero, Domos è riuscita a catalizzare l'attenzione di un centinaio di titolari di B&B, affittacare case vacanze, aspiranti tali e proprietari di immobili affittati nel mercato turistico, che hanno affollato le sale appena sufficiente a ospitare, oltre a chi si era da tempo registrato all'evento, tutti coloro che all'ultimo minuto hanno deciso di partecipare. In entrambi gli incontri ha fatto gli onori di casa il presidente di Domos, Marco Di Gangi. Nel primo, il gradito intervento del sindaco di Olmedo Tonifahedda, presente proprio per significare l'attenzione della sua amministrazione allo sviluppo del comparto turistico e all'esigenza di fare rete. Si sono succeduti lo stesso Marco Di Gangi, che ha trattato l'argomento delle locazioni turistiche, delle cose da sapere e da fare per rispettare le norme, Gesi Mele, referente dell'ufficio territoriale di Sassari, dell'assessorato regionale del turismo, il cui intervento ha avuto invece ad oggetto gli adempimenti per le attività ricettive extra alberghiere. Gianluca Murgia, consulente fiscale, che ha parlato degli adempimenti fiscali per le strutture extra alberghiere, Stefania Salvatore, trainer e social media community manager, che ha spiegato l'importanza di lanciare e posizionare sul web la propria struttura extra alberghiera, e infine Elisa Prestia, architetto e home stager, che ha spiegato l'importanza dell'home staging. Nel secondo incontro, svoltosi nella sala della Fondazione Alghero, sono intervenuti invece gli operatori dell'ufficio alloggiati della questura di Sassari, Antonio Dettore e Romolo Fois, che hanno illustrato gli adempimenti e le modalità operative per la comunicazione obbligatoria degli alloggiati alla questura. Il responsabile dell'ufficio delle politiche familiari del comune di Alghero Mauroledda, che ha illustrato i disciplinari per le strutture ricettive, che vogliano orientare la propria offerta verso il segmento del turismo familiare, la funzionaria della Secal Giussi Maltana, che ha invece tratteggiato gli adempimenti e le modalità per la corretta gestione dell'imposta di soggiorno, e infine Marco Di Gangi, che ha spiegato come adempiere tramite la piattaforma Sired, all'obbligo di comunicare per fini statistici alla Regione e all'Istat, i dati relativi agli arrivi alle presenze degli ospiti, delle strutture e degli appartamenti. Il prossimo appuntamento di Domos, dai contenuti estremamente ricchi, è previsto per il 20 marzo prossimo, ma sarà dedicato esclusivamente alle associati. La Confcommercio informa a tutti gli interessati che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai percorsi formativi previsti nell'ambito del progetto Sfera, strategie formative per l'economia rurale e l'ambiente. Due, i percorsi previsti. Il primo dal titolo Management del turismo sostenibile avrà una durata di 630 ore, si svolgerà sia ad Ozzieri che a Bonorva. Le domande di iscrizione devono essere consegnate a mano, inviate tramite PEC o raccomandata, andata a ritorno entro la giornata di oggi. Il secondo dal titolo Organizzazioni di servizi per il turismo sostenibile, ha una durata di 150 ore, si svolgerà a Tiesi. Le domande di iscrizione in questo caso devono essere consegnate a mano, inviate tramite PEC o raccomandata, andata a ritorno entro e non oltre le ore 18 del prossimo 22 marzo. Per ogni informazione a riguardo, gli uffici di Performa Conf Commercio e degli altri partner di progetto restano a disposizione di tutti gli interessati. Ci fermiamo ancora per qualche istante. Prosegue la rassegna sere d'inverno con storia di un burattino, adattamento teatrale tratto dal romanzo di Carlo Collodi e l'anagrafe Carlo Lorenzini, Le avventure di Pinocchio, interpretato da Stefania Ambroggi, Gianfranco Corona, Antonello Foddis e Giuseppe Ligios, che firma anche la regia. Il nuovo lavoro del teatro d'inverno propone una storia apparentemente per bambini, dietro la quale si nascondono le frustrazioni e le insidie nel mondo degli adulti, gli inganni, le amarezze, ma anche le piccole gioie che la vita riserva. Un Pinocchio crudo, quello raccontato da Collodi, e che sul palco del teatro civico si propone in una veste insolita, a cui fanno da cornice le musiche originali composte ed eseguite da Daniele Barbato Bo, il disegno luci di Luca Usai e gli accessori di scena di Marco Velli. Lo spettacolo, già in replica in mattinè per le scuole nell'ambito del progetto T per T, teatro per tutti, sarà in scena quest'oggi e poi domenica, 17 marzo alle 21. Informazioni e prenotazioni al numero 388 57 21 808. Chiudiamo con un avviso, una nota importante, perché l'Avis di Alghero, in collaborazione con la Scuola Calcio Antonello Cucuretto, il Catalunia Calcio e il Centro Trasfusionale di Alghero hanno organizzato una raccolta di sangue per domani, sabato 16 marzo, dalle 8 alle 12 nel campo di Maria Pia, gestito proprio dalla Scuola Calcio Cucuretto. Sarà presente l'automoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale, pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno donare il sangue. l'auspicio dell'Avis di Alghero e degli organizzatori e di un'ampia partecipazione, considerando che siamo in un momento particolare, caratterizzato da un calo nelle donazioni nell'ultimo periodo. E per oggi è tutto, il nostro telegiornale torna ovviamente domani. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.